Il famosissimo attore americano Jack Black, chi non lo conosce alzi la mano, pensate che ha aperto il suo canale ufficiale su YouTube in meno di 21 giorni di tempo, ha avuto più di 3 milioni di iscritti. Se pensate che costui, interprete di pellicole straordinarie, simpatiche, comiche, quindi divertenti, vada a parlare nel suo canale di musica oppure di cinema, non è così. Infatti l'uomo in questione, Jack, va a recensire i videogiochi, i videogames, sia quelli vecchi che quelli nuovi, in linea con quelli che sono i principali e più importanti trend dei canali internazionali. E come tutti noi sappiamo, i videogiochi sono un argomento ghiotto, un argomento di tendenza, un argomento che tira in ambito di popolarità, di share e quindi di successo. Grazie, un caro saluto a voi tutti, complimenti a Jack Black che ha aperto il suo canale su YouTube in maniera ufficiale o ufficiosa, credi se voglia. Saluti cari e al prossimo video da Narratore Italiano.